Dal Vangelo secondo Marco Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti. Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di Lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che Egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse, non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Carissimi amici, pace e bene a tutti quanti voi. Siamo giunti alla trentunesima domenica del tempo ordinario e il richiamo della liturgia della parola è proprio sull'osservanza dei comandamenti dell'amore. Amore per Dio e amore per il prossimo. Già la prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio, ne anticipa la tematica, presentandoci lo Shema Israel, Ascolta, Israele, con cui il popolo viene invitato all'osservanza dei comandamenti del Signore. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice, e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele. Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. È la strada indicata per vivere e professare la propria fede in Dio. A questa indicazione Gesù, nel Vangelo che ascolteremo, aggiunge un altro precetto, sollecitato proprio dalla domanda di uno degli iscrivi, qual è il primo di tutti i comandamenti. E così Gesù, dopo aver richiamato lo Shema Israel, Ascolta, Israele, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, aggiunge, il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Il comandamento dell'amore con i suoi due risvolti compendia, abbraccia, racchiude tutti gli altri comandamenti, le altre leggi, le altre prescrizioni. La logica che regola il rapporto fra Dio e l'uomo e fra l'uomo e i suoi simili è l'amore. Il metro con cui misurare le nostre relazioni è l'amore. Il senso primo ed ultimo della nostra esistenza va ricercato proprio nella logica dell'amore. Siamo stati creati per amore e per vivere d'amore. Siamo destinati all'amore eterno in Dio. Come allora non lasciarci interrogare anche oggi dalla parola di questa domenica? Essa ci interpella e ci spinge ad una verifica della nostra vita e quindi delle nostre relazioni. Come vivo il mio rapporto con Dio? Come sperimento questo suo amore infinito e come io rispondo a questa chiamata d'amore? Come vivo le mie relazioni con gli altri? Quali sentimenti alimentano e determinano i miei rapporti con i fratelli che mi sono accanto nella vita quotidiana? Siamo chiamati ad una revisione della nostra vita per esprimere con l'osservanza dei comandamenti di Gesù la nostra professione di fede. Dobbiamo riconoscere che il Signore è il nostro Dio che è unico e dobbiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Dobbiamo amarlo cioè con tutte le nostre forze, con tutto il nostro essere. Allo stesso modo dobbiamo riconoscere il prossimo come un dono di Dio e amarlo come noi stessi. Riscopriamo allora, fratelli e sorelle, sollecitati dalle parole di Gesù, la bellezza dell'essere chiamati all'amore per vivere nella verità e costruire insieme un mondo migliore. Pace e bene e buona domenica a tutti. Pace e buona domenica a tutti.